Sì, certo, ma penso che di Tiago Silva e di Sandro Nesta ce ne sono solo due. Io sono Mexes, abbiamo Zapata, Bonera, Iepetz, quindi noi siamo lì al Milan, gli altri sono partiti. Noi guardiamo quello che c'è intorno e lavoriamo per essere al 100% e per fare dimenticare quei grandi giocatori che sono stati quelli. Adesso dobbiamo guardare avanti e noi indietro. Facendo doppio allenamento e sentire alcune voci è brutto da sentire, poi fa male personalmente e poi anche alla famiglia perché non ha capito che cosa stavo facendo, cioè leggendo tutte le cose che si dicevano su di me, ma è importante che sto qua oggi e che voglio far vedere a tutti i tifosi, sia la gente che sta qua a lavorare, che il Mexes sta qua e che è qua al 100% e darà sempre il massimo per far vedere alla gente che non ci sono sbagliati. Quindi tu non hai mai pensato di andartene? No, no, assolutamente no. Ho sempre pensato a recuperare il più veloce possibile, a stare sul campo il più veloce perché, come ho detto prima, per essere un calciatore così non c'è niente di più brutto da essere fuori. Penso che ci sono tanti i favoriti. Certo che la Juve ha vinto il campionato l'anno scorso e i favoriti sono loro. Noi siamo lì, siamo zitti e faremo stare zitti anche gli altri.